. A Metz, guida carremo Busta, ci sono Seppi e Giannessi . Da San Pietroburgo a Metz, dalla Russia alla Francia. Non cambia la superficie, terreno veloce, occasione per tennisti in cerca di fiducia e successo. . Mancano i migliori interpreti del circuito, diversi profili si presentano con credenziali credibili. Il primo giocatore del tabellone è Carremo Busta, di recente in semifinale a Flushingme Adolfs. . Solido, costante, in grado di cogliere le occasioni di campo. Attende Brown Home Out, probante il quarto con M.Derev, attaccante di razza, il serve e vollei come marchio di fabbrica. . . La parte alta accoglie anche Lucas Pouille. Un'oscillazione costante tra paradiso ed inferno, colpi e soluzioni da campione navigato, capitomboli inattesi a contaminare il cammino. . Giannessio Copil, esame d'esordio sulla carta privo d'insidie. Altra possibile minaccia azzurra ai quarti, Cseppi, subito fuori al challenger di Genova, K.O. con basso, deve domare Simon, alla seconda fermata gombos o un qualificato. . 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 Istomin per aprire, l'ombra di Müller oscura l'orizzonte. Il match con il lussemburghese, quarto probabile, può essere lo snod decisivo. N.1 del Belgio in Davies, prova a mobilitare l'ultima porzione di stagione. Beneteo Almagro, poi l'alterno Paire, 1-T con Florent Mayer. Carremo Busta, M. Derev. Paire, Goffino.